Che ci fai con quella? La sua tecnica è migliore invece, eh? La sua tecnica è straordinaria. Come vai? Dammi con la borsa. No! Dammi quei soldi. No! Dammi quei soldi. Dammi questi cazzoli soldi! E allora cammino, cammino e dormo. Le mani affondate nelle tasche e le gambe che vanno avanti da sole. È impossibile smettere di camminare. Io sono magra, io sono asciutta, io sono una pietra. È un mondo che finisce e io non muoio contro nessuno. È una morte semplice. E il momento viene del tutto indifferente perché morire, morire non sarà raggiungerlo, no! Morire sarà smettere di aspettarlo! Non voglio strappare il ricevitore dalle mani di tapide. Ma è impossibile, impossibile farcela. Allora questi compagni, tira con tutte e due le mani, ma lui tiene troppo forte. Questa notizia, tira, tira, fino a che lui non starga il ricevitore dall'orecchio. Mi guarda e mi fa. E lo vedo, mi ha trovato. Io non sono più, io credo. Non è vero! Sì, non ho visto. Due giorni fa era vivo. Sì, non ho visto. Sì, non ho visto. E c'è qualcuno che dice piccola, piccola, piccola. Sì, non ho visto.